ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sono bella faccia e bentornati su minecraft nella vita reale che cosa facciamo oggi oggi userò tutti gli attrezzi reali di minecraft ma non questi perché questi sono gli attrezzi nabbi ragazzi questo qui è un piccone di legno che cosa vuoi che faccio un piccone di legno allora voi dovete lasciare subito un super mi piace arriviamo a 20.000 mi piace e in un prossimo video lo scoprirete comunque ho anche l'apparecchio quindi per favore iscrivetevi un minuto di silenzio per bella faccia con l'apparecchio allora che cosa facciamo oggi quindi proveremo tutti gli attrezzi e li proveremo veramente ok proviamo col piccone in legno quanto sarà potente un piccone in legno ok non è che mi pensa che si rompe oh mamma mia questo piccone inutile ragazzi ci vuole un upgrade un piccone più potente il piccone di diamante nella vita reale questo piccone di legno non rompe nemmeno un blocco di pietra avete visto è praticamente inutile è inutile sei inutile guardate rompiti guardate ragazzi questo è il massimo che è riuscito a fare lo vedete guardate che roba non l'ha rotto per niente useremo la nostra incredibile crafting table quindi piccone di legno diventa di diamante ecco qua un piccone vero di diamante guardate che bello è il piccone di diamante di minecraft e oggi lo useremo per distruggere tutti i minerali e tutta la pietra del mondo vi ricordate il blocco di pietra che non riuscivamo a rompere benissimo sono tornato vediamo un po' adesso l'ho praticamente distrutto col mio piccone di minecraft nella vita reale e adesso non fai più il duro eh guardate che roba ragazzi l'ho distrutto tutto ma adesso rompiamo qualcosa di più forte rompiamo la pietra vediamo se il piccone di diamante di minecraft è così forte come sembra ok vediamo proviamo a rompere la pietra siamo pronti 3 2 1 cavolo questa pietra è veramente dura che cavolo ragazzi ci vuole qualcosa di più potente ancora è inutile non riesco a rompere nemmeno la rosso vediamo questa nemmeno un piccone reale di diamante riesce a rompere la pietra ma ci rendiamo conto su minecraft è troppo semplice rompere le cose ecco di questo albero oh mio dio ragazzi il mio piccone è rimasto conficcato riproviamoci ok proviamo a cambiare attrezzo il piccone non funziona pensavo che il piccone fosse super potente ma effettivamente non è così ok prossimo attrezzo l'azzetta l'azzetta di minecraft avete visto ma è un'azzetta di legno ragazzi cosa vuoi che faccia vediamo un pochettino ragazzi non riesce a rompere nulla questa qui è inutile rompiti blocco rompiti è inutile ragazzi anche l'azzetta di legno è inutile vedete se non rompe nemmeno un blocco di legno ok accetta di legno diventa di diamante adesso vediamo accetta di diamante e poi guardate come rompe questo maledetto blocco adesso ti rompi eh adesso ti rompi blocco sì l'azzetta di diamante è super forte sì adesso proviamo ad andare a rompere la legna ok proverò a rompere questo pezzo di legno vediamo se l'azzetta di diamante sarà più forte del piccone secondo voi scrivetelo qua sotto nei commenti siete pronti 3 2 1 che botta ok sarà molto difficile ho già visto eh rompiti 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 oh guardate ragazzi ce la stiamo facendo si sta rompendo un pochettino boccavolazzo sono già stanco rompiti 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 oh mio dio mi devo impegnare di più rompiti ragazzi è divisivissimo non si rompe questo legno guardate nemmeno con un con un'azzetta di diamante ok questo questo è il massimo che sono riuscito a fare con l'azzetta di diamante è incredibile ma è difficilissimo su minecraft sembra tutto così semplice ma nella vita reale è veramente difficile non riesco a rompere nemmeno questo proviamo a rompere questo vediamo un pochettino 3 2 1 non si rompe nemmeno questo rompiti rompiti no ragazzi ma non si rompe ragazzi ma non riesco a rompere niente se questa azetta di diamante è inutile ok proveremo a rompere questa pianta allora non si rompe niente sì ce l'abbiamo fatta siamo riusciti a rompere questo che riuscivo a romperlo anche con le mie dita è inutile ragazzi assurdo inutile gli attrezzi di minecraft nella vita reale non sono forti per niente ok guardate che cosa so dei diamanti ragazzi ho dei diamanti e un bastoncino perché creeremo la palla di minecraft di diamante quindi mettiamo il bastoncino qua ok mettiamo un diamante e ne mettiamo un altro e come per masia oh pala di diamante ok dai questa volta deve funzionare la palla di diamante deve scavare quindi devo riuscirci per forza vediamo vai pala di diamante vai 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 pala vai pala di diamante vai pala di diamante devi scavare oh ce la sto facendo guardate sì la terra la terra ce l'abbiamo fatta guardate che roba sì stiamo scavando stiamo scavando dai ecco sì oh mio dio la palla di diamante ce l'abbiamo fatta sì ecco ok quindi pala di diamante funziona peccato per il piccone per l'accetta perché sono stati veramente deludenti però la super pala per ora sta vincendo ok è arrivato il momento di creare la zappa e creeremo la zappa di diamante quindi forza mettiamo il nostro stick mettiamo un diamante qui un diamante qua oh ed ecco qui la zappa di diamante ok questa non è che sarà fortissima ragazzi deve solo zappare il terreno e piantare le cose però possiamo usarla anche per rompere un blocco di pietra aiuto aiuto ok era già rotto va bene ok piantiamo un po di grano utilizzando la nostra zappa di diamante porta zappa oh mio dio ragazzi ma si è piegata ma che cavolo è successo ma questa non è una una zappa di diamante ma che cavolo è successo ma si è piegata oh porca miseria ma rimettiti dritta ok devo dire ma guardate queste cose sono state un disastro ragazzi adesso prendiamo la cosa più bella però guardate la spada di legno la trasformeremo in una fantastica spada reale ok spada spada delle mie brame diventa una bella spada di ferro una spada ragazzi una spada di ferro di minecraft guardate che bella ragazzi è la spada di ferro di minecraft reale è vera è proprio vera ok proviamo ad usarla ok siccome non ci sono mostri nelle vicinanze la proverò con queste piante vediamo subito guardate ragazzi l'ho tagliato tutto guardate che roba mamma mia questa sì che è una super spada se ci fosse un creeper in questo momento lo distruggerei in un secondo proviamo a tagliarle un'altra oh mio dio guardate anche questo è super potente proviamo a tagliare qualcosa di più forte ok questo qui è un bel pezzo di tronco vediamo oh mamma mia guardate la potenza della mia spada ok devo dire una spada deve fare così però mi piace molto ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto abbiamo provato tutti gli attrezzi di minecraft fatemi sapere qual è stato il vostro preferito e fatemi sapere qual è stato il più nabbo da bella faccia è tutto e ci vediamo presto in un nuovo video di minecraft nella vita reale ciao